Poi, niente, questi sono, se vedete questi qui, sono, che uso a volte, però molto strano, no, questi sono i gel, niente, eccolo qui, questi qui sono gli acrilici, e infatti c'ho un kit piccolino dove ho tanti colori dell'acrilico, come il monomero, e lo uso stranamente, quando voglio che mi dure tantissimo, perché l'acrilico mi dura di più. Poi, su Enelistore ho preso sempre due gel bianchi che costavano in offerta 10 euro, gel di 15 mg, quindi appena l'ho visto l'ho preso i cubi. Poi ho preso questo gel che lo uso sempre, spesso, perché, come vedete ragazzi, è un gel, un colore bellissimo. Dopodiché ho preso questo, è l'unico gel che ce li ho di questo colore, perché pensavo che fosse nero, invece ho sbagliato a cliccare, ed è un viola. Poi ce li ho questo, che è il nero brillantinoso, ah, e questi qui sono sempre della Nile Star e costano sui 6,50 euro, questo viola che è, come il rosa, mi piace tantissimo questi qui. Sono di 5 mg. E per ultimo questo verde che sinceramente non l'ho mai usato ancora. Ok. Poi della Nile Dessagna ho preso il diluente smalti che l'ho già usato nel rosso, per diluire le smalte, poi ho preso il cleaner e poi ho preso i push smalti. Ah, e poi ho preso anche la fresa. Allora ragazzi, questa è la fresa che ho preso su Nile Design e non lo so se volete vedere come si monta, perché sinceramente all'inizio io ho avuto problemi per montarlo, quindi secondo me vi faccio vedere come si monta. Allora ragazze, come potete vedere questo qui è per accendere, qui è accesso, questo qui è per cambiare, quindi da destra a sinistra, è per cambiare. Questo qui, man mano che va, va più forte e meno forte. Da qui si connette, abbiamo questo qui, no? Quindi questo va messo qui. L'ho messo qui. Ok? Io già l'ho messo, però comunque lo levo così vi faccio vedere. È un po' faticoso. Questo qui no. Allora, a voi vi viene così, che è chiuso. Non lo so se si vede a modo. Allora, questo viene chiuso, no? Non si vede a modo. Allora, questo mi viene chiuso. Voi, qua, viene R ed S. Allora, R è per aprire, quindi. Sentite il suono? Perché io lo facevo pianissimo, quindi non mi si apriva. Facevo così. Come mai? Come mai? Invece dovete sentire proprio. da R è per aprire, quindi. Così. Metto la punta e lo chiudo, perché sennò mi esce. Quindi da R lo chiudo, vedete, a S. Ecco. E questo non esce più. Poi c'è, come sapete, vabbè, per appoggiare, quindi non vi sto a ridire e vi deve venire anche le altre punte e il pedalino. Io ancora la fresa non l'ho utilizzata perché mi è arrivato da poco. Comunque penso in breve faremi una manicure perché proprio mi ci vuole. Vabbè, ragazzi, vi saluto e spero che vi sia servito di aiuto il mio video. Ciao! 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 Ciao!